buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 7 settembre 2023 vediamo subito che si festeggia oggi è una santa francese visse nel terzo secolo siamo ancora in epoca pagana lei si fece cristiana fin dalla giovane età però che cosa accadde accadde che fattosi cristiana il padre ovviamente era rimasto pagano e non voleva assolutamente che la figlia abbracciasse questa nuova fede disubbidendo a un matrimonio imposto appunto dal genitore che la voleva sposa ad un uomo ricco si era innamorato di lei perché perché regina era una ragazza di grande bellezza fu imprigionata si cercò di farla desistere di farle cambiare idee a tutti i costi ma regina perdurò nella sua fede e nella sua volontà di non volersi sposare fu allora torturata e purtroppo la violenza la cattiveria del padre ma anche della del regime che in quel momento vigeva nell'antica roma nell'antico impero romano fu decapitata aveva solo 15 anni questa è regina di alise e vediamo ora le previsioni del tempo ancora dura ancora dura l'estate nel nostro territorio con leggere velature del cielo tempo stabile e in prevalenza solleggiato su tutta la regione dicono oggi le previsioni temperature massime entro i 27 30 gradi le minime ci sono attestate a 20 gradi il mare è mosso sulle coste i 20 ispireranno da nord mentre nell'interno da una devia da una direzione leggermente deviata ovvero da nord est questo per quanto riguarda le previsioni quindi possiamo chi può ancora permetterselo godere di una buona e lunga vacanza allora apriamo i giornali a partire oggi dal resto del carlino e vediamo una buona notizia una buona notizia posta in apertura porta maggiore dice addio al gabbiotto una delle brutture di fano che è stata lì per quattro anni addirittura con un gabbiotto di compensato celava l'entrata dei conicoli sotterrani che erano stati scoperti e appunto quattro anni fa durante gli scavi archeologici che hanno interessato porta maggiore dopo quattro anni e molte proteste il comune ha annunciato l'appalto dei lavori entro la fine del 2023 l'intervento vuole garantire ha dichiarato l'assessore alle lavori pubblici Barbara Brunori l'accesso alle stanze sottostanti permettendo la visibilità degli scavi guardate se si riuscite a vedere questa fotografia l'intervento è molto molto bello vedete che è semplicemente un contenitore di vetro che è molto molto leggero che evidenzia quello che accade quello che è stato scoperto nel sottosuolo ma ovviamente lì l'ingresso rimane chiuso è un bel intervento fatto in vetro e acciaio corten l'acciaio corten destra sempre qualche perplessità è quell'acciaio arrugginito insomma che è stato utilizzato anche per altre situazioni non è un gran bel vedere ma sembra che vada di moda tra gli architetti e poi c'è da dire una cosa una piccola riflessione nel senso che è un bellissimo intervento forse troppo bello destinato a rimanere a lungo e non ci vorrebbe che questa opera rimanesse lì vita al natural durante perché dovrebbe essere soltanto un'opera che dovrebbe poi far proseguire i lavori per rendere accessibili gli ambienti sotterrani ma chissà se questi lo saranno ed ora parliamo anche dei ritrovamenti in via Vitruvio che potrebbero essere aperti al pubblico c'è una grande aspettativa in città dopo il gran parlare che si è fatto di questi ritrovamenti che forse per un'ipotesi possono essere attribuiti alla Basilica di Vitruvio ebbene pochi pochi hanno avuto la fortuna di averli visti e sembra che la soprintendenza sia indirizzata magari domenica prossima ad aprire gli scavi e farli vedere alla cittadinanza la decisione deve essere ancora presa ma il resto del Carlino dice che si sta ragionando e forse questo avverrà vi informeremo se la decisione sarà consolidata ed ora parliamo del fiume Metauro del fiume Metauro e degli effetti che l'alluvione ha provocato su questo grande corso d'acqua è il più grande fiume delle Marche ed è una fonte di approvvigionamento importante per l'acqua potabile sia di Pesaro che di Fano fiume Metauro osservato speciale se cede il bypass Rubinetti a secco beh speriamo che non accada però qualcosa si è mosso la briglia che c'è nei pressi di Cerbara ha avuto un cedimento e questo ha provocato degli effetti anche sul canale Albani per fortuna l'acqua nei Rubinetti di Fano e Pesaro c'è sempre stata però qui c'è un grido d'allarme di Penserini titolare dell'omonima ditta dell'omonima impresa il quale ha intenzione di presentare agli enti interessati in attesa del progetto di definitivo di consolidamento della diga della briglia ecco la vediamo qui in questo punto questo punto è il canale Albani che costituisce una derivazione del fiume Metauro che è in questo luogo a sinistra la briglia danneggiata ecco la vediamo qui in questo luogo a destra il canale artificiale ebbene occorre qui Penserini dice che occorre cercare di intervenire al più presto perché poi se con l'autunno arrivano i grossi temporali può darsi che accada quello che è accaduto anche in passato veniamo alla cronaca violenza sessuale all'ido chiesti due anni e otto mesi la sentenza con rito abbreviato verrà pronunciata nella giornata di oggi che cosa si riferisce questa sentenza? che cosa? i fatti risalgono all'agosto del 2020 si tratta di una denuncia presentata da una ragazza oggi ha 19 anni ma al tempo ne aveva 16 quindi era minorenne ha denunciato di aver subito delle violenze da parte di un giovane senza che potesse reagire perché era ubriaca ovviamente la difesa contesta questa affermazione e oggi il giudice dovrà presentarsi dovrà pronunciarsi Maxi Antenna 5G a Carignano nasce un comitato e dà battaglia un comitato che ha un nome significativo si chiama Solo Alberi Veri No Antenne 5G a Carignano c'è tutto un clima di protesta che è sorto nella frazione per una antenna che Iliad ha eretto nel giugno scorso senza far sapere niente a nessuno l'ha preso e l'ha montata ebbene il comune si è pronunciato in maniera contraria Iliad ha fatto ricorso al TAR il TAR dovrà dare la sua sentenza tra breve però insomma al momento non ha sospeso nulla quindi l'antenna che vedete qui nella fotografia è questo palo non so se lo vedete bene che si innalza nel panorama di una delle più belle colline di Carignano beh questa è la zona del cimitero e qui ci sono anche alcune case e quindi c'è questo clima di protesta sperando che il TAR si pronunci a favore appunto dell'ambiente però insomma la legge è a favore di Iliad e vedremo come andrà a finire e parliamo di disabili un tema che è sorto alla ribalta della cronaca per i ritardi con cui l'amministrazione comunale ha programmato l'appalto per dare assistenza da parte degli educatori ai bambini che affronteranno il prossimo anno scolastico con una situazione di disabilità disabili scuola al via senza educatori il comune corre ai ripari ma è polemica e qui abbiamo delle dichiarazioni anche dell'assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti il quale ha detto che per una settimana dal 13 settembre quando inizia l'anno scolastico al 18 oppure anche ovviamente al 18 c'è la gara d'appalto ma poi il servizio sarà prestato ancora più avanti ebbene in tutto questo periodo il comune metterà i soldi per conto proprio con il proprio bilancio però c'è questa denuncia da parte di una figura che era salita alla ribalta tempo fa poi ci si è quasi dimenticati ma in realtà il problema resiste e si fa sempre più coccente qual è questa figura? è quella di Tiziana Massaro vi ricordate la mamma del piccolo Federico Mezzina lo vediamo qui in questa fotografia è un bambino affetto dal morbo di crabbe che ha tentato tante tante cure tante possibilità di riabilitazione purtroppo credo senza aver avuto un successo per quanto riguarda questo però la denuncia esiste noi genitori di figli disabili dice mamma Tiziana dobbiamo tollerare i continui ritardi delle amministrazioni ritardi che sono ancora più gravi perché vanno a ledere i diritti dei più fragili quando si parla dei bambini veramente stringe il cuore Mondolfo dopo 4 anni e 3 milioni pronti a riaprire la media fermi anche questo è un successo finalmente si riapre la scuola ne parla il sindaco Barbieri dopo 4 anni è in arrivo il grande giorno sabato mattina alle 10 si terrà la cerimonia di inaugurazione dei lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi di Mondolfo rimasta preclusa per studenti insegnanti e personale dal settembre del 2019 tanto ci è voluto perché la scuola fosse riabilitata e quindi disponibile per i nuovi accessi la rete idrica non poteva essere venduta e siamo ad Urbino ed una dichiarazione questa di Michele Felici che ha svolto la sua attività lavorativa come capo dell'ufficio tecnico del Comune il quale contesta l'accessione dell'acquedotto l'acqua è un bene pubblico non può essere data ai privati deve rimanere in mano pubblica perché deve essere disponibile per tutti non può essere oggetto di speculazioni di gravi tassazioni insomma l'acqua deve essere un bene prezioso a tutti e ben lo sanno coloro che magari in certi paesi deserti devono fare chilometri e chilometri tutti i giorni per raggiungere un pozzo festa dell'aquilone della solidarietà la spinta per il successo del Rotary Club di Urbino alle donne delle contrade passando per la cooperativa Francesca ebbene ha lasciato veramente il segno la festa dell'aquilone a Urbino che ha coinvolto larghi strati della popolazione bambini, adulti, anziani coloro che dell'aquilone hanno tutte le conoscenze tecniche i venti, la possibilità di volare la leggerezza dell'aria e via dicendo non solo comete alla festa dell'aquilone di quest'anno anche tanta tanta solidarietà dal Rotary Club alle donne delle contrade sono state molteplici in realtà le realtà coinvolte nei quattro giorni di iniziative per riuscire a ottenere fondi per fini di solidarietà e poi vediamo un altro articolo che riguarda l'istituto della rovere di Urbania un istituto che interessa coinvolge 500 studenti non solo della città ma anche del circondario e il presidente della provincia Paolini dice il miglioramento da un punto di vista antisismico è Aula sempre più belle vedete come progressivamente si cerca di intervenire in tutti gli istituti scolastici per realizzare lavori antisismici dopo quanto è accaduto ogni tanto una scorsa di terremoto nel nostro territorio per fortuna al momento ancora a leggere continuano e si sentono e si sentono bene questo per quanto riguarda il resto del Carlino parliamo ovviamente anche della fiera di San Nicola sulla pagina di Pesaro ed è la grande pizzata che si è svolta ieri sera vedete qui un ampio reportage fotografico la pizzata è costata al comune 10.000 euro forse nemmeno tanto perché poi ha coinvolto tantissime persone guardate in questa fotografia che è scattata all'imbrunire però guardate le tavolate come si dilungano su queste strade questa è una doppia tavolata una e una due arriva a questo punto poi gira poi si dilunga di qua insomma arriva quasi fino al mare c'è veramente una quasi sono chilometri di pizze che sono state consumate sono anche delle belle pizze a guardarle con la maionese le uova sode con tutti gli ingredienti della pizza Rossini la consegna del consigliere regionale a Ricci Biancani ha evocato secondo qualcuno l'endorsement della carica e per Biancani la Rossini da sindaco forse Biancani è lì è lì che aspetta la candidatura San Nicola sindrome assedio per i residenti vantaggi e svantaggi la fiera è sempre un momento esaltante di vivacità per il commercio e l'economia cittadina ma poi procura ovviamente disagi per i residenti pensate quelli che devono parcheggiare la macchina si sono visti sottrarre 300 posti auto e quindi insomma ci sono non pochi problemi posti a pagamento sono 350 la protesta di un abitante se non esci prestissimo la mattina e rientri tardi la sera addio parcheggio questo è un po' il senso dell'iniziativa e poi in quest'altro articolo il resto è Carlino parla del traforo della guinza che è sempre lì oggetto di dibattito e anche di qualche contesa di qualche protesta Fano Grosseto restano i nodi e questo è un po' è un titolo preoccupante riunione fiume ad Ancona ma Mercatello ancora si oppone ebbene questa trave di traverso posta da Mercatello forse ha ragione perché la sindaca di Mercatello si occupa ovviamente della vivibilità dei suoi residenti dei suoi cittadini e quindi vuole che insomma questa nuova viabilità non procuri disagio perché poi sono questi cittadini che devo sopportarne le conseguenze la sindaca Sacchi è alla ricerca delle alternative per evitare il traffico nel suo paese però l'assessore alle infrastrutture della regione Marche Baldelli rilancia non possiamo più aspettare o rinviare proprio adesso insomma adesso che finalmente sembra dico sembra che i lavori possano così riprendere per quanto riguarda il traffolo della guinza e quindi il completamento della superstrada Fano Grosseto ebbene ancora fare polemiche mi sembra un po' così esagerato e pretestuoso ma ovviamente questa è la situazione donna partorisce in ospedale ma non riconosce la bambina è accaduto nei giorni scorsi nel riparto di maternità di ostetricia al San Salvatore di Pesaro ovviamente c'è massimo riservo sull'identità sia della mamma che della bambina a cui è stato posto un nome da parte del personale medico la piccola sarà affidata ora ai servizi sociali per una futura adozione questo come è da prassi per fortuna insomma non è stata abbandonata allarme massimi ribassi verificate offerte anomale per quanto riguarda l'appalto di lavori pubblici appalchi su incarichi professionali siamo sempre a Pesaro e sulla nuova mensa della Pirandello il comune appare costretto ad ulteriori controlli sulla congruità delle cifre proposte insomma qui bisogna andare con i piedi di piombo sono poi delle verifiche che si sono allargate e hanno implicato anche il vecchio Pallas e anche la cittadella del basket c'è massima attenzione al protocollo d'intesa con la prefettura per evitare problemi di carattere speculativo ed ora vediamo il Corriere Adriatico il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano apre con la questione dei disabili vi leggo subito il titolo di apertura disabili appalto educatori in ritardo lo abbiamo detto per 18 giorni ci pensano i comuni l'annuncio del presidente della TS dell'ambito territoriale sociale numero 6 scongiura in extremis il disservizio il disagio degli operatori e qui ovviamente il presidente e Dimitri Tinti e poi è stato organizzato anzi sarà organizzato sabato prossimo un presidio di protesta in piazza in piazza Ammiani mentre sale la polemica del movimento 5 stelle di fratelli d'Italia che ovviamente hanno rifocolato questo disservizio evidenziandolo a favore appunto dei genitori dei bambini disabili e ieri è cominciato l'anno scolastico è cominciato in anticipo rispetto agli altri comuni sappiamo che l'anno scolastico inizia il 13 di settembre ma ieri è cominciato ieri 6 settembre è cominciato l'anno scolastico per i bambini dell'asilo nido che vengono degli asili nido che vengono gestiti dal comune di Fano l'assessore Samuele Mascherini insieme a Jessica Omizzolo che è la responsabile del servizio didattico del coordinamento del servizio didattico degli asili hanno aperto formalmente l'anno scolastico nell'asilo nido arcobaleno a San Lazzaro dove già c'erano i genitori che hanno portato i bambini alla loro prima esperienza i genitori staranno con loro per tre giorni poi pian piano li abbandoneranno in modo da farli prendere così una certa confidenza con la nuova situazione ambientale ma ieri cosa importante all'arcobaleno non c'è stato alcun pianto quindi i bambini hanno accettato molto molto serenamente questa nuova situazione questo grazie anche alla professionalità delle operatrici è veramente il servizio di asilo nido scuola materna anche che presta il comune di Fano è uno dei più qualificati questo dobbiamo dirlo senza ombra di dubbio perché rispecchia il parere dei genitori mascherina responsabile ieri dell'arcobaleno c'è niente retta per 300 famiglie è stata ampliata la fascia che dà la possibilità ad alcune famiglie di usufruire di questo servizio gratuitamente gratuitamente anche la mensa e il trasporto pubblico il bus scolastico ieri tutto è cominciato a pieno regime cioè per quanto riguarda l'orario di servizio fino alle 16.30 dalle 7.30 del mattino poi a ottobre sarà ampliato anche alle 17.30 quindi mensa quindi servizio bus insomma si parte veramente alla grande un altro articolo anche sul Corriere Adriatico riguarda il box di Porta Maggiore e viene illustrato per la prima volta un rendering del progetto che verrà realizzato alla fine dell'anno sicurezza Piazza Miani fuori controllo Fratelli d'Italia rilancia le segnalazioni dei cittadini sullo spaccio ed altri episodi criminali che si verificano puntualmente nel centro storico di Fano e passiamo a Fossombrone vediamo qui una fotografia di alcuni personaggi in abito romano ma non è la Fano dei Cesari è invece una rievocazione che si fa nell'antica Fanum Semproni una delle aree archeologiche più interessanti della nostra provincia una delle poche aree archeologiche che si trovano nella regione Marche fosse una delle più importanti domenica a San Martino si riviverà la storia tra lezioni e spettacolo una bella iniziativa che consente ai Fossombronesi ma anche a tutti i turisti di fare un tuffo sulla romanità ci sarà anche uno spazio dedicato ai bambini l'ingresso è gratuito dalle 17 per tutti adulti e bambini ci saranno lezioni interattive sulla vestizione e sulla modalità di utilizzo degli strumenti d'uso ed igiene quotidiani dell'antica Roma didattica sull'alimentazione di epoca romana con spiegazione degli alimenti più in uso e poi anche oggettistica dei banchetti didattica sulla tessitura insomma veramente tanti aspetti che fanno così ripiombare coloro che visiteranno l'area archeologica in un'atmosfera dell'antichità è una cosa molto bella anche il Corriere parla della protesta del comitato di Carignano spunte l'antenna 5G nasce un comitato spontaneo che vuole la rimozione di questa antenna che deturpa dal punto di vista ambientale ma si temono anche ripercussioni per quanto riguarda la salute per l'inquinamento elettromagnetico per quanto riguarda questa iniziativa che ora attende la risposta del Tar vediamo il Paglio dell'Oca di Serra Santabondio per Lagone dei Sei Castelli una grande festa in questo centro preapenninico la corsa disputata anche da Monelli e donne Monelli questa bella frase che insomma viene usata un po' nel Monte Feltro sono i bambini nella costa non si usa ma qui è molto tipica e molto caratteristica Monelli e donne bello questo uso di questa espressione nel sommario e poi vediamo che per Senigallia è stato presentato il nuovo ponte del Coppetto si tratta del nuovo ponte che attraverserà il Misa lungo la provinciale 17 e andrà a sostituire quello che è stato danneggiato in modo irreversibile dalla bomba d'acqua del 15 settembre del 2022 tra poco ci sarà appunto l'anniversario di questo evento calamitoso all'incontro che si è svolto ad Ostra è stato presente il governatore Acquaroli che ha sottolineato la tempestività dei finanziamenti ed ora siamo al termine della nostra rassegna stampa posso segnalarvi per quanto riguarda Pesaro sul Corriere Adriatico l'apertura dedicata alla pagina di Pesaro si parla ovviamente della Fiera di San Nicola che allunga a quattro giorni non solo shopping ma anche spettacoli in modo particolare in piazzale d'annunzio e questo è tutto per il momento chiudiamo qui i giornali e vi do appuntamento come sempre alle 7 di domani grazie per l'ascolto a risentirci a risultati Grazie a tutti.